Gentili telespettatori buona giornata siamo nel programma controcorrente e ospite Vittorio Feltri che boccia la sinistra dice Meloni fa quello che loro non sanno non sanno fare la manovra oggi è sotto i riflettori dovrebbe essere approvata proprio domani ecco domani per l'ostruzionismo della sinistra che si diverte a boicottare e a cercare di di fare comunque ostruzionismo verso il paese che è una cosa veramente vergognosa ne abbiamo parlato in uno dei video precedenti a questa Feltri è convinto che questa manovra è migliore di tutte quelle degli ultimi dieci anni fatte dal centro sinistra dice proprio così tutte le manovre ogni qual volta che un governo le affronta sono da criticare e in effetti le critiche piovono in modo vorticoso ma la cosa non mi stupisce sono convinto che questa manovra con tutti i difetti che può avere è migliore di tutte le manovre fatte negli ultimi dieci anni dai governi di centro sinistra che oggi rimproverano Meloni di non saper fare quello che loro non hanno saputo fare in dieci anni Giorgia Meloni sta governando da due mesi mi sembra che si sia comportata in modo egregio ecco esattamente è proprio così insomma la manovra della Meloni sta per essere conclusa la sinistra occupa le commissioni cerca di impedire che la manovra sia fatta prima del 30 dicembre perché i suoi leader hanno raccontato la bugia che non si era mai vista una cosa del genere credo che a sinistra non abbiano molta considerazione del proprio elettorato se no non direbbero una cosa del genere hanno raccontato sui loro profili in twitter che non si era mai vista una cosa del genere che una manovra venisse fatta a fine dicembre una cosa sconcertante no mai vista una cosa del genere e poi si scopre o meglio gli italiani si dimenticano molto facilmente o neanche lo sapevano che la manovra di Draghi è stata fatta il 30 di dicembre la manovra del governo Conte 2 il 30 di dicembre la manovra del governo Conte 1 il 30 di dicembre il governo Gentiloni 24 di dicembre ecco quindi quel mai visto prima era una semplice gigantesca bugia una semplice gigantesca bugia che che la sinistra racconta ai propri ai propri elettori e così feltri dice grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in aula 29 il 29 dice raffaella paita grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in aula il 29 quindi questa signora che è la presidente dei senatori del terzo polo è fiera di essere riuscita a bloccare la manovra per due giorni beh sono soddisfazioni direi è brava la paita brava hai bloccato la manovra per due giorni e beh adesso queste sono vere e proprie soddisfazioni perché dice hanno paura di avere qualche numero in meno il 29 hanno paura di offuscare la conferenza stampa di giorgia meloni che comunque ci sarà forse converrebbe rispettare maggiormente le regole che tutti insieme ci siamo dati per una discussione alla luce del sole dare con trasparenza i messaggi che vogliamo dare agli italiani cosa vuol dire quello che ha detto niente assolutamente niente questa signora paita è fiera di aver bloccato la manovra per altri due giorni perché così solo per dare fastidio al governo e per mettere i bastoni tra le ruote al governo e andare contro l'italia i soliti come si dice quando si dice che la sinistra sono anti italiani questa ne è una delle tante dimostrazioni quindi cercare di fare un danno al paese sperare magari che la manovra non venga approvata che che si vada in esercizio provvisorio per andare contro il paese e contro il governo pertanto non solo lei ma gran parte dell'opposizione è fiera di aver ostacolato la manovra che poteva essere conclusa ieri 27 dicembre in anticipo rispetto a draghi e conte e forse era proprio quello cercare di non far vedere che la che la meloni in soli due mesi aveva fatto una manovra e conclusa prima dei governi precedenti forse solo questa soltanto e forse solo invidia ma feltri dice la cosa non mi stupisce sono convinto che questa manovra sarà comunque migliore di quella che hanno fatto prima gli altri governi vediamo se ho un'altra notizia e vi racconto di eva kaili che resta in carcere per almeno un altro mese e cerca di di scaricare dicendo che lei non ha colpe lei non ha visto niente lei non sapeva niente ma con il compagno giorgi sembra un cartone animato no stava avevano comprato un terreno da 35 mila metri quadri per costruire una mega gigantesca villa in su un'isola greca come l'avrebbero costruita la mega gigantesca villa con uno stipendio di 18 mila euro al mese e allora per per la maggior parte delle persone 18 mila euro al mese sembrano tanti toglieteci quei soldi che servono per vivere quanti anni devi mettere da parte per costruirti una mega villa su una superficie di terreno da 35 mila metri quadri e in un anno quanto metti da parte 200 mila euro quanti anni ti ci vogliono per costruire per mettere da parte costruire una mega villa quindi quei progetti così ambiziosi fanno immaginare che lo stipendio a disposizione non era poi così sufficiente anche perché questo giorgi non è che prendesse quelle cifre lì visto che non era un deputato ecco ma era un assistente e comunque quando succedono queste cose le coppie poi si scaricano a vicenda no dice ma dovete lasciarmi libera io poi non andrò mica via da bruxelles ma vi batterò per far conoscere la verità sta di fatto che a casa sua hanno incontrato sacchi pieni di soldi che lei non sapeva che ci fossero non sapeva niente non sapeva che ci fossero è stata è stata fregata dagli altri perché lei vicepresidente del parlamento europeo non sapeva niente quando vedeva quei sacchi di soldi in casa pensava che erano del monopoli dice caspita voi qui giocano a monopoli ma di brutto hanno stampato un sacco di soldi del monopoli per giocare qui 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 fanno sul serio ecco ma chi la raccontano vabbè insomma la gente cerca sempre di scagionarsi vedendo la malparata arrivederci a tutti e grazie